È sospettato di far parte di una cellula jihadista, Abidi Aymen, il tunesino di 25 anni che giovedì è riuscito a scappare dal parcheggio del Palazzo di Giustizia di Firenze dopo un'udienza. Il nordafricano, accusato di tentato omicidio all'Ipsia in Germania, determinato e violento, è considerato molto pericoloso e abile. Giovedì è riuscito a sfilarsi una manetta e con quella ferito a mento e gola la gente di polizia penitenziaria che lo aveva in custodia. Scavalcata una doppia recinzione che delimita il parcheggio, poi è fuggito attraversando il Parco Sandonato, ha utilizzato la tramvia in direzione stazione e si è liberato definitivamente delle manette, poi è riuscito a far perdere le tracce, forse anche grazie alla mascherina che gli copriva il volto. Il sospetto è che il tunesino abbia dei complici islamici e radicalizzati come lui. Su di lui pende un mandato di cattura europeo dopo la sparatoria all'Ipsia. La Corte d'Appello aveva da poco pronunciato sentenza favorevole all'estradizione in Germania per gravi indizi di colpevolezza. La scelta di scappare a Firenze, dove era stato catturato nel luglio scorso, non sarebbe casuale. Il caso è affidato al Nucleo Investigativo Centrale, una sorta di affari interni della penitenziaria, ma la caccia è aperta a carabinieri, polizia e finanza.